Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Roberto Di Giacomo, sulla FPL per lavori coda tra l'Astra Signa e Montelupo Fiorentino in direzione Livorno e i rallentamenti tra Montelupo Fiorentino e Ginestra Fiorentina in direzione Firenze. Ricordiamo che si tratta di lavori per il miglioramento della sicurezza tra Montelupo e Ginestra con restringimenti, percorsi alternativi sulla SP12 o per viaggi più lunghi sull'autostrada A11, sulla FPL coda per viabilità esterna che non riceve allo svincolo di L'Astra Signa. In A1 direzione Firenze rallentamenti tra Bivio A1 variante di Valico e Calenzano, verso Roma rallentamenti per incidenti tra San Savino e Val di Chiana. Morsi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!